signora iolanda bulgarelli ecco noi siamo in una città dove meravigliosa dove il mare la fa la padrona ma la collina non è certo minore assolutamente anzi niente di banale nonostante i marchigiani di qui ogni volta che vengono su questo terreno dicono ma questo ci sono prestato ebbene sì serviva anche una milanese per godere di origine emiliana di origine emiliana come il cognome testimonia per godere della bellezza delle marche cosa producete olio extravergine d'oliva igp monovarietale biologico e credo di aver detto tutto abbiamo dunque sei varietà di cui due si sono sono state premiata la rassegna degli oli monovarietali dove la prima presentazione presso l'assam in particolare la nebbia del menocchia che tra l'altro ha preso due foglie rosso alle foglie rosse al gambero rosso e il sargano di san benedetto che non erano mai stati presentati quindi erano presentati per prime l'azienda in realtà è giovane quanti anni e diciamo è cinque anni che produciamo olio però abbiamo tutta la filiera dalla produzione cioè dal campo fino alla all'etichettatura quindi con il frantoio compreso all'interno dell'azienda grazie a tutti grazie a tutti